Ben ritrovati ragazzi, ciao a tutti, come state? Oggi siamo qui in questa giornata, purtroppo in questa giornata che ci toglie completamente dalla Champions League, però c'è da ragionare su quelle che sono state le prestazioni individuali dei calciatori di Juventus contro PSG. Ovviamente noi analizziamo i giocatori della Juventus, tra l'altro ho già pubblicato il post partita caldo, è uscito un po' in ritardo, ma ieri ero allo stadio e internet non collaborava e ho pubblicato anche la live reaction. Non ci sarà l'analisi della partita, cercheremo di fare un contenuto domani un po' più di chiacchiera e di riassunto, quindi oggi magari sarò un po' veloce nella pagella di Massimiliano Allegri e ieri appunto ero allo stadio. Lo avrete visto anche nella live reaction, ho tutti i post su Twitter, su Instagram che ho lasciato un po' in giro per il web e sono stato invitato da Topps ed è stata un'esperienza grandiosa perché ho avuto la possibilità di vedere giocare dal vivo Bappé e Messi, purtroppo non Neymar che ho trovato nelle figurine della Champions di Topps, perché Neymar purtroppo ieri era indisponibile, era squalificato, quindi non c'è stato. Per fortuna l'ho visto dal vivo a Parigi perché anche vedere dei giocatori avversari, degli avversari di questo livello, tanta tanta roba. E sempre all'interno dei pacchetti di figurine di Topps ho trovato due giocatori della Juventus che sono Rabiot e Matti Sule, quindi dai, non tutto il male viene per nuocere, qualcuno della Juventus l'ho trovato anch'io. Poi vabbè, Mbappé brillante è stata la prima figurina in assoluto che ho trovato all'interno dei pacchetti e infatti è stato il migliore in campo in assoluto e ci ha fatto malissimo. Cerchiamo di partire subito un attimino con quelle che sono le pagelle, andiamo ad analizzare appunto una sconfitta, secondo me immeritata nel complesso, almeno il pari ci stava alla grande per quella che è stata la partita della Juventus. Per una volta siamo stati noi a fare la partita e subire le giocate individuali degli avversari, un po' come abbiamo vinto magari tanti duelli, tanti incontri nel passato, magari anche tanti trofei. Questa volta è toccata a noi in una serata che ci vedeva già eliminati dalla Champions, quindi non c'era niente da sperare, non è che ieri sera c'è stata la delusione perché oddio sia stato eliminato dalla Champions, quella è accaduto già un bel po' di tempo fa. Non ero deluso nemmeno contro il Benfica, ero forse più deluso col Benfica all'andata in casa e col Maccabi in trasferta perché lì c'è stata secondo me la vera eliminazione della Champions e quindi la vera delusione. Andiamo avanti, Allegri 6 e mezzo, dicevo non parlerò tantissimo di Max Allegri perché poi domani vorrò fare un discorso più generale, ovviamente qua si sta analizzando la singola partita, quindi Juventus contro PSG. Quindi una Juventus che aveva a disposizione pochissimi calciatori perché guardavi la panchina e ti mettevi le mani nei capelli. Una Juventus che fino adesso non ha assolutamente convinto, una Juventus che fino adesso addirittura ha fallito un obiettivo che era quello della qualificazione agli ottavi di Champions League, quindi non andremo a giocarci la fase di eliminazione diretta. Una Juventus che è in ritardo in Serie A, una Juventus che adesso affronterà Inter e Lazio che sono due squadre che hanno invece dimostrato di essere in forma nel nostro campionato, quindi non è un'analisi generale, è un'analisi soltanto appunto sulla partita. La partita che abbiamo disputato contro un PSG che ragazzi ha giocato meno alla morte rispetto a noi e vabbè faracci loro, nel senso anche loro avevano la necessità di cercare di portare a casa un buon risultato perché poi c'era in ballo il primo posto nel girone che non ha ottenuto perché non ha fatto una gran partita. Ha vinto con il minimo sforzo, la Juventus probabilmente meritava qualcosina di più e per quello che si è visto secondo me eravamo la squadra messa meglio in campo, un Allegri tra l'altro ieri sera molto energico, ci vedeva dallo stadio, quindi la valutazione di ieri è positiva, non ci si può fare niente, ha fatto esordire anche due giovani in Champions, Barbieri ed Enzo Barreacea, io credo che si pronunci così, mi chiedo scusa ma non lo conoscevo, l'ho visto ieri sera per la prima volta. Ci sono stati altri giocatori, c'è stato Sule che è entrato, Gatti alla seconda partita in Champions, Miretti e Fagioli titolari, quindi diciamo che nel momento brutto della Juventus, bruttissimo, peggiore gli ultimi dieci anni, queste piccole speranze, queste piccole fiammelle relative ai giovani fanno ben sperare, però secondo me bisogna dare continuità e non solo utilizzarli, come diceva Allegri nel prepartita, nella conferenza stampa della vigilia, come tasselli da collocare all'interno di buchi, magari lasciati dai più esperti, no, questi giocatori ci hanno dimostrato di essere comunque molto molto importanti. Czesni sei, perché che cosa gli dici? Bappeo ha fatto un gol della Madonna, gol della Madonna, Nuno ha fatto un gol, anche lui, che non si è capito, primo pallone toccato dopo 30 secondi che è entrato, per il resto Czesni posso dire poco, ha fatto un paio di parate sicure, una parata che l'ha lasciata lì, Bonucci ha preso la palla e l'ha spazzata via, quindi niente da segnalare, per Czesni difficilmente poteva essere in grado di parare i due gol del PSG e quindi si becca il suo 6. Gatti, voto 6, perché ragazzi, ora dirò un'ovvietà, come l'acqua è bagnata, quattro numero pari, Gatti ha sofferto un bapè, è grazie alla fava, direte voi, però io non mi aspettavo un Gatti così, perché l'altro giorno, ricorderete, avevo un po' criticato Gatti, perché con Lecce cercava sempre la via più semplice, no? Palla lì, palla là, palla su, palla giù, ieri è sgruppato, ieri è andato, ieri si è staccato, ieri è intervenuto, ieri ha lottato, ha ringhiato sulle caviglie degli avversari e non erano con tutto rispetto strefezza, banda e quella gente lì, Francesco, stiamo parlando di Messi, di Mbappé, di giocatori che lui probabilmente aveva sempre visto solo in televisione esattamente come noi nel corso della sua carriera, su Mbappé prova anche a tirarlo giù, con le cattive Mbappé rimane su, in occasione del gol dell'1-0, io non so quanti giocatori nel mondo rimangono in piedi dopo quella trattenuta, ci buttano tutti e cercano di prendere la punizione, di far ammunire l'avversario, invece no, Mbappé sta su perché è una pasta diversa, salta anche un altro avversario in scivolata, mi pare Locatelli, e poi la mette lì dove il portiere non può arrivarci, però se devo dirvi che devo punire Gatti per quella roba lì, ragazzi, mi sembra un po' eccessivo perché Gatti ha fatto una signora partita, una signora partita all'interno di quelle che erano le mie sensazioni, le mie previsioni, quindi lo premio con una sufficienza, una buona sufficienza, ieri sera lo Stato mi ha esaltato, avrete visto nella reaction un paio di volte in cui mi alzavo e urlavo Gatti, Gatti, ma perché? Non mi aspettavo assolutamente una roba di questo tipo, bravo, bravo Federico Cazzo, questa è la linea da seguire, bravo, sei mezzo Bonucci per il gol, perché se no poteva rimanere sulla stessa falsa riga del 6 alla retroguardia da Juventus, perché secondo me ieri sera non si è veramente concesso niente al PSG, poi Bonucci al merito di trovare il gol dell'1-1, un po' come era accaduto all'europeo, in finale dell'europeo, mi ha ricordato un po' quella partita con il gol di Bonucci, poi purtroppo non è un altro gol, l'abbiamo preso, però Bonucci ha fatto una buonissima partita, anche un paio di lanci interessanti in verticale, finalmente sta tornando fuori anche il lancio alla Bonucci che diventa un'arma. Voto 6 ad Alexandro, non mi pare che ci siano chissà quali erroracci all'interno della prestazione di Alexandro, che come terzo difensivo mi sta convincendo davvero abbastanza, poi sono sempre nel partito che non rinnoverei il contratto ad Alexandro, però nella partita ieri secondo me il 6 se lo porta a casa. 6 pure a Quadrado, perché secondo me Quadrado ieri ha fatto una buonissima partita, finalmente ieri Quadrado mi è piaciuto, mi ha convinto, puntava all'uomo, lo saltava, cercava di creare la superiorità numerica. A volte a tratti mi è sembrato il mio Quadrado, poi in alcune occasioni mi sono interrogato e dicevo ma chi è questo, non può essere Quadrado. Non voglio punirlo eccessivamente per il gol del 2-1 e il PSG, perché in quel momento la Juventus si stava spingendo. Se prendi gol in un momento in cui sei 1-1 contro il Paris Saint Germain in casa, in un momento disperato con dei giocatori che la Champions nemmeno l'hanno mai giocata, con delle riserve che non le hai e tu comunque vuoi cercare la vittoria soltanto per il morale, per trovare un gol in più, per divertirti e far divertire il pubblico, credo che sia giusto spingere e quindi se prendo un gol per quella cosa lì mi va bene. Dato che ieri sera non mi giocavo niente, ieri sera c'era soltanto da divertirsi e divertire e nulla più. Mi va bene prendere gol in quell'occasione, poi certo Quadrado doveva essere magari un po' più basso, doveva essere più reattivo, doveva cercare di intervenire, però arriva Disco, la Juventus sta facendo una gara in avanti e se prendi gol mentre vai in avanti, non c'è niente da dire perché stai semplicemente cercando di vincere la partita perché non ti accontenti del pareggio. Un buon Quadrado ieri sera, speriamo che possa continuare su questa lunghezza d'onde, speriamo che Barbieri possa essere aggregato alla prima squadra per dargli un po' di respiro perché Quadrado veramente in questo momento le sta giocando letteralmente tutte. Sette più a Locatelli, migliori in campo, per quanto mi riguarda migliori in campo, due tiri velenosissimi, il primo l'avevo visto dentro, il secondo a giro alto di poco e poi ha fatto gol, gliel'hanno annullato, io lì ero impazzito perché mi sembrava tutto regolare, ma soprattutto quell'apertura per Quadrado, io in diretta ho urlato come Pierlui Steiner, ma effettivamente è stato così, neanche da guardare Quadrado, sapeva che l'uomo era lì, alza la palla e gliela mette, poi tanta lotta, quantità in mezzo al campo. Questo è un signor giocatore, la prestazione di Locatelli di essere da signor giocatore, in assoluto migliori in campo della Juve, ovviamente perché del PSG ragazzi c'è questo signore qua, questo signore qua col set che è una roba allucinante, ma per noi Locatelli è stato in assoluto migliori in campo e secondo me meritava il gol, sarebbe stato il giusto epilogo, 2-2 con gol di Locatelli, sarebbe stata la serata perfetta. Dai cazzo Locca insistiamo su questa lunghezza d'onda perché fino adesso quest'anno non mi aveva soddisfatto, non mi aveva convinto, ma io Locatelli ci credo, io dal caldo di Locatelli non scendo, Locatelli è un ottimo giocatore, lo dimostrerà e spero che questa possa essere una partita che non dico che possa diventare standard perché veramente ha giocato su livelli altissimi, ma l'obiettivo di Locatelli deve essere sempre fare delle partite di questo tipo alla Juventus. Cazzo Locca, bravo, bravo. E voto 7 a Fagioli, che non è il migliore in campo solo perché c'è Locatelli. Un dubbio, Fagioli ragazzi, adesso non ho idea dalla televisione quale sia stata la vostra impressione, ma Fagioli, quantità e qualità, ha disegnato calcio, e ieri sera Fagioli? Ieri sera Fagioli ha disegnato calcio, non ha avuto paura in assoluto di entrare, cioè sembrava quasi che lui fosse abituato a giocarsi queste partite qua. Quante partite ha fatto Fagioli in Champions? Quanti minuti prima di ieri sera aveva fatto Fagioli in Champions? Sembrava abituato a questi palcoscenici. Ha fatto un giro immenso e poi è tornato in carriera. Lui ha girato l'under della Juventus e poi è andato alla Cremonese in Serie B, poi adesso è tornato, ha fatto la panchina. A Lecce ce la risolve, fa una prestazione così col PSG. Io alzo le mani, perché magari sarà un fuoco di paglia e non giocherà sempre così, però questo ha fatto la panchina fino adesso e non si spiega il perché. Le ultime due apparizioni di Fagioli in Maglia Juve da pelle d'oca, davvero da pelle d'oca. Sarò di parte perché mi piace Fagioli, non mi interessa. Ieri sera ragazzi veramente ha fatto un partitone. Dallo stadio è stato evidente, un partitone. Voto 6 ad Adrien Rabiot, che le sue sgroppate, le sue cavalcate, il suo strappo palla al piede solito ce l'ha messo. Non una gran partita di Rabiot, non molto appariscente, però secondo me è sufficiente. Una partita da 6, non di più, perché comunque ieri sera al centrocampo se lo sono presi Fagioli Locatelli. Rabiot, che magari in tante partite quest'anno era stato paradossalmente il miglior centrocampista del reparto, ieri sera secondo me è stato il peggiore, perché gli altri due hanno fatto una partita superlativa. Voto 5 e mezzo a Kostic, la prima insufficienza ragazzi, fino adesso magari sono stato un po' largo con alcuni giocatori che potevano magari prendersi un mezzo voto in meno e quindi andare all'insufficienza, non mi interessa. Kostic invece non mi è piaciuto. Kostic non mi è piaciuto, tanto impreciso, tanto, tanto, poi due o tre volte è andato a lottare anche lui, però Kostic deve essere qualcosa di più. Miglior giocatore dell'Europa League dell'anno scorso, quest'anno tornerà a giocare l'Europa League con la maglia della Juventus e quindi da lui mi aspetto qualcosa in più, perché miglior giocatore di una competizione europea vinta non lo tieni per sbaglio. E Kostic fino adesso, non dico che sia stato deludente perché non è così, perché il suo gol e i suoi assist fino adesso, le sue prestazioni bene o male l'ha fatte. Vorrei però un andamento più regolare di Kostic perché mi sembra sempre un po' su-giù, 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 su-giù. Mi piacerebbe vedere un Kostic molto più positivo, molto più costante. Voto 6 a Miretti. Non mi è piaciuto tanto, devo dire la verità, perché ha sbagliato tante cose negli ultimi metri, che è quello che gli ha rimproverato Allegri il giorno prima in conferenza stampa. Vi dicevo, Allegri se rimprovera Miretti è perché ci crede, davvero è perché ci crede. E quindi secondo me Allegri dovrà insistere e puntare su questi tasti qua, perché Miretti ha un gran potenziale, ragazzi. Il fatto che si faccia trovare smarcato, il fatto che si inserisca sempre, il fatto che riesca ad avere i tempi giusti per servire i compagni, quelle robe lì ce le ha. È un ottimo giocatore, è un bravissimo giocatore. Io addirittura avrei giocato con Miretti e Fagioli dietro Milik, lasciando Locatelli e Rabiot a centrocampo. Quindi 3-4-2-1. Però Miretti in quella posizione con solo Milik, con solo un attaccante, secondo me fa fatica. Ha sbagliato tante volte la scelta individuale, però secondo me la prestazione è comunque positiva. Ragazzi, non dobbiamo mica dimenticarci che Miretti, la Champions prima di questa non aveva mai giocata. Mai giocata, mai! All'andata e ritorno gioca titolare col PSG. Queste sono cose positive, sono cose da portarsi a casa. Quindi magari Miretti meritava 5,5 perché ha sbagliato tutte le scelte. Va bene, sono un po' più largo, gli do 6. Gli do 6 perché Cassarola capisco la difficoltà. Capisco questo essere stato catapultato nel mondo Juve all'improvviso. Questo magari si immaginava un anno in giro per qualche squadra, come esattamente ha fatto Fagioli per poi tornare a Juve l'anno prossimo e giocarsi le sue carte. Infatti questo si è fatto quasi tutto il giro nei Champions da titolare e ci siamo fatta per il post Benfica dove aveva fatto quell'errore e quindi è stato parzialmente bocciato. Infatti ricorderete che non l'abbiamo più visto per un certo periodo. Miretti non ha fatto bene neanche a Lecce, non ha fatto benissimo neanche a Lecce secondo me. E Allegri infatti giustamente è andato lì a dirgli però quelle cose lì vanno fatte meglio. È vero, è vero, ma fa parte del percorso del crescente di un giocatore. Quindi io a Miretti ieri sera gli do comunque 6, cosa che non posso fare invece per Milik. Non posso farlo perché Milik ieri sera ha fatto una partita complicata sicuramente, ma tutti i numeri 9 in questo momento la Juventus farebbe una partita complicata. Però Milik troppo lontano dall'area. Tante volte noi cercavamo di andare sull'esterno, cercare questa superiorità numerica, mettere il cross in mezzo. Milik tante volte stava staccato, ma per caratteristiche lui è un giocatore da rifinitura, viene incontro, vuole andare a pulire questi palloni. E infatti poi l'area era vuota quando giochi con solo Milik come riferimento offensivo e l'altro è Miretti, fa un po' fatica poi a prendere i cross. 5 e mezzo che non ha bocciatura incredibile, però Milik e Kostis sono i due giocatori che mi sono piaciuti meno in assoluto ieri sera. E 6 e mezzo Federico Chiesa? Poteva essere solo 6, probabilmente sì, non mi interessa 6 e mezzo. 6 e mezzo perché io vedere, intanto Federico Chiesa che torna in campo, non me l'aspettavo, vederlo dal vivo, ciao, ve lo regalo, un capolavoro. Ma vederlo entrare così, dopo quasi 300 giorni che non giocavo una partita ufficiale, dopo un'operazione complessa che è l'operazione forse che ha rovinato anche magari delle carriere che potevano essere anche qualcosa di più nella storia del calcio, un crociato, quindi qualcosa di molto delicato. Questo è tornato dentro con una fame, una cattiveria, una voglia, una grinta che a un certo punto mi sono chiesto ma questo si era davvero fatto male al ginocchio? Questo si era davvero spaccato un crociato? Questo è stato fermo davvero 11 mesi? O mi sono perso io qualcosa? Perché se mi sono perso io qualcosa allora alzo le mani. Ma questa non è una prestazione normale da un ragazzo che torna in campo in una partita complicata, se vogliamo anche inutile, dopo un intervento duro, difficile, con un recupero lento, forse più lento del solito, che poteva anche magari far preoccupare perché potevano esserci stati dei problemi in più. E c'è questo è tornato dentro con esattamente come aveva lasciato la Juventus. Leader, leader tecnico e leader carismatico, spiegava costici movimenti da fare per cercare di liberare il suo potenziale. E se riusciamo ad incastrare la fascia con chiesa costici o chiesa quadrado magari sulla stessa fascia che partono larghi tutti e due, uno si accentra, uno va sul fondo, diventa veramente complicato poi per gli avversari. Quindi molto bene il rientro di chiesa che apre anche uno spiraglio di 3-4-3 o 3-4-2-1, cosa che si è già vista ieri sera in alcuni frangenti. Momento clamoroso nel vederlo rientrare in campo, commovente. Chiesa su Instagram ha ringraziato i tifosi della Juventus, no, grazie a te Federico Cassarola che bello rivederti. Infatti, eccoci qua. Che bello rivederti. E questa maglia ieri sera a chiesa l'ha scambiata con Mbappé. E io l'ho vista dal vivo questa scena. Ed è stata clamorosamente bella. Chiesa ha scambiato la sua maglia con Mbappé. È tornato Federico Chiesa. Ci sono stati degli esordi di altri giovani. I giovani che hanno giocato, secondo me, e nel complesso, hanno ben figurato per quello che poteva essere il loro livello. Abbiamo perso cinque partite in Champions, abbiamo vinto solo una. E quella sicuramente è una notizia tremenda, terrificante. Non si salva niente. Non si salva niente dal punto di vista sportivo in questa Champions. Ma nello specifico, da Juventus PSG, ci sono dei piccolissimi segnali di luce che non posso non cogliere, non posso non prendere. Sarei disonesto nel dirvi che non sono contento per il ritorno in campo di chiesa o le prestazioni dei giovani o vedere che comunque fino almeno adesso qualcosina si sta muovendo anche il lato prospettiva. E speriamo di continuarla. Perché questa sicuramente è la strada giusta. Oltre i nomi, oltre lo status, oltre gli stipendi, oltre a qualsiasi cosa, gioca a chi si merita. Cazzo, questa deve essere la Juventus.